Assessore al benessere animale a Narita Ottaviano, novità per quanto riguarda la sterilizzazione sul territorio? Sì, il Comune ha indetto un avviso pubblico per far conoscere la cittadinanza che è in atto una convenzione con i veterinari del territorio per sterilizzare sia i gatti patronali, sia i gatti che appartengono a colonie e filine regolarmente registrate e sia per la castrazione dei cani. Quindi c'è un avviso dove si invita la cittadinanza di poter fare domanda. La domanda deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune oppure tramite una PEC e si entra in una graduatoria. La graduatoria viene stabilita in base al reddito ISE e l'intervento può essere effettuato direttamente sul territorio di Torre del Greco attraverso i veterinari che hanno partecipato all'iscrizione all'albo e quindi non regarsi più in luoghi lontani dalla nostra città di Torre del Greco. Quindi è un servizio che si offre alla cittadinanza? Sì, è un servizio che si offre alla cittadinanza e il servizio viene offerto fino al 31 12 2021 quindi si invitano tutti i cittadini, chi non l'abbia ancora fatto, di potersi registrare e presentare domanda per poi poter far effettuare la sterilizzazione o la castrazione al proprio animale.